Impariamo a vivere la strada, portofoglio della mobilità sicura e sostenibile. Questo è il titolo del libro presentato nella Sala di Unioni del Comando della Polizia Locale di Trieste, con noi presenti tra gli altri l'assessore Antonella Grim, la pianificazione urbana e la Marchigiani e il comandante della Polizia Locale, Sergio Abate, nonché Laura Tamborindi, dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il volume, composto da 160 pagine, costituisce il primo vero manuale interistituzionale sull'educazione e la mobilità e viene utilizzato dalla Polizia Locale di Trieste quale strumento didattico per i percorsi educativi proposti alle scuole dell'infanzia primaria e medie del Comune di Trieste. La pubblicazione documenta le buone pratiche realizzate nel campo dell'educazione e la mobilità svolte negli anni scolastici 2010-2013, stampato in 3.000 copie con allegato un DVD contenente materiale didattico e filmati relativi percorsi di Peer Education di 35 istituti scolastici regionali del primo ciclo. Il libro è stato realizzato dal MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito del progetto triennale sicuramente in collaborazione con la Regione Frulli Venezia Giulia e Frulli Venezia Giulia Strada S.P.A., distribuito in tutte le scuole del Frulli Venezia Giulia, in particolare alle Corpo Docente, per raggiungere poi l'utenza complessiva delle scuole del primo ciclo. Numeri alti 94.242 studenti, 17.955 dell'infanzia, 48.915 la scuola primaria e 30.103 per quello che riguarda le scuole medie.